quest'oggi la prima lettura ci propone un brano tratto dal secondo capitolo della genesi come dicevo lunedì il racconto della creazione è un racconto per l'appunto un mito e come tale va considerato ciò che conta è scoprire i messaggi che dio vi ha inserito con i quali desidera svelarci i meccanismi principali della nostra esistenza nel testo ci viene raccontato di dio che crea l'uomo leggiamo allora il signore dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente è chiaro che non è andata così ma cosa ci vuole dire questa immagine di un dio che crea l'uomo da un po di terra che poi modella e che poi ci soffia dentro beh innanzitutto chi ha scritto questa pagina questa frase è qualcuno che ha vissuto migliaia di anni fa e in quel tempo l'unico gesto creativo che si conosceva era prendere un po di terra e appunto modellarla per farci degli oggetti degli utensili dei vasi e poi con questo gesto di questo dio che ci crea dalla terra dalla polvere della terra ci ricorda che noi siamo terrestri innanzitutto e che abbiamo una forma che c'è su noi ha una forma e questa forma simboleggia il nostro corpo ma il brano vuole farci fare questa riflessione in più che è proprio il cuore del testo di oggi del brano di oggi ci pone questo interrogativo ma siete sicuri di essere soltanto corpo oppure c'è qualcosa di più ed ecco le immagini di dio che soffia nelle narici dell'uomo un alito di vita speriamo che il giorno prima dio non abbia mangiato la bagna cauda ed ecco che l'uomo diviene un essere vivente dio che soffia un alito di vita nelle narici dell'uomo questo per ricordarci che noi non siamo solo corpo siamo molto di più abbiamo un'anima un alito di vita un soffio etimologicamente la parola anima viene dal greco animos cioè vento l'anemometro è proprio lo strumento che misura la velocità del vento il vento lo percepisci ma non puoi afferrarlo incasellarlo così è la nostra anima se esiste l'anima chiediamoci quali possono essere gli indizi che ce ne possono rivelare l'esistenza io credo che siano i sentimenti sia quelli positivi che negativi quei sentimenti che sorgono in noi che spesso non possiamo controllare ci dicono che c'è in noi qualcosa di più la nostra esistenza non è solo una questione di corpo occorre allora domandarci ma io ci credo che un'anima ci prendiamo molto cura del corpo come è giusto che sia senza esagerare però abbiamo la stessa cura anche per l'anima come ci si prende cura dell'anima beh innanzitutto coltivando la bellezza le nostre passioni le relazioni cercando il bene il bello ma anche pregando connettendoci con dio con questo con il dio che ci ha dato questo soffio vitale la preghiera infatti il miglior nutrimento dell'anima se trascuriamo l'anima è come se ignorassimo una parte importante di noi stessi ultimo aspetto del brano di oggi che vorrei sottolineare ce ne sarebbero molti altri ma non voglio dilungarmi non voglio non voglio mettere troppa carne al fuoco si dice che dio piantò un giardino in eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato che cos'è l'eden è un luogo dobbiamo forse andarlo a cercare chissà dove no assolutamente si tratta di uno stato d'animo di una situazione l'eden è l'armonia cioè dio crea l'uomo per la felicità per l'armonia questo ci ricorda che la felicità non è assenza di problemi e attenzione ma vivere in armonia la musica ci aiuta a comprendere che cos'è l'armonia un brano è fatto di note alte gravi acute di pause di piani di forti non tutto è uguale non tutto è omogeneo ci sono anche elementi che si contrastano armonia vuol dire che anche elementi opposti vanno insieme questa è la nostra vita questo è l'eden l'eden è una situazione di armonia l'uomo è fatto per l'armonia ma come vedremo questa può saltare e perché non lo vedremo domani ma lo vedremo dopo domani domani vedremo un altro pezzettino della genesi buona giornata ciao 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 ciao